C'è Mic che lancia un allarme su Parco Rossani, sta diventando ciò che mi aspettavo, scrive con persone che utilizzano sostanze stupefacenti in pieno giorno. Oggi ho trovato una bottiglietta con cannuccia e stagnola con una sostanza, tutto bello ma la situazione è allarmante, dice. Parco Rossani ha 16 telecamere attive con registrazione e conservazione delle immagini, presto avrà anche un collegamento real time con la sala della Polizia Municipale, ricordiamo a tutti che molti degli accadimenti che si sono verificati hanno visto assicurare alla giustizia anche gli autori di quegli accadimenti, a volte abbiamo anche pensato che fossero stati fatti atti di vandalismo ma poi le immagini ci hanno dimostrato che così non è stato, ricorderete? Il caso del cesto da basket, lì dove un giocatore ha lanciato la palla e si è allentato da solo perché con le vibrazioni si era allentato il dado di fissaggio, oggi quel problema è stato risolto con un adeguato sistema che impedisce. Sono così a sue fatte gli atti di vandalismo, la vera notizia è ancora di sbagliarsi. Ricordiamo anche che si sono verificati anche degli episodi, delle risse con anche delle lesioni che hanno visto delle indagini delle autorità di polizia assicurando alla giustizia anche gli autori. Abbiamo avuto segnalazioni anche di scooter che entrano all'interno del parco, ci sono delle verifiche in corso con i sistemi di videosorveglianza e con le immagini che sono state acquisite. Ahimè nei giorni scorsi qualcuno si è sentito anche libero di poter accendere un piccolo fuoco, questa dimostrazione che tutto quello che ci viene segnalato viene subito attenzionato. E quindi l'invito è a tutti a stare tranquilli che la situazione è una situazione che viene attenzionata dalle forze dell'ordine e anzi con il collegamento real time delle immagini avremo modo di poter anche guadagnare tempo sulla tempestività di intervento. Perché avendo a monitor nella sala operativa della polizia municipale le immagini H24 come si verificano delle situazioni anomale, si fa presto a mandare la prima pattuglia della polizia municipale in zona per effettuare un controllo. Quindi occhio perché non è una zona franca, siete monitorati e quindi qualunque cosa accada contro le legge terrete stanati. Come giusto che sia all'interno degli spazi pubblici.